Non ti voglio male, però Conte in questa intervista dice anche che devo mettere al tavolo per due giorni tutti i leader dei partiti che sostengono la maggioranza, bisogna parlarsi senza più infingimenti, senza ipocrisie e capire se possiamo mettere nero su bianco un programma per arrivare alla fine della legislatura. Ma in attesa di questo programma e di questa, poi sarà ambizioso o meno l'intenzione di Conte, non lo so, lo vedremo, c'è appunto questa questione, questa che era il terribile che riguarda l'exilio. Allora ti chiedo, il problema politico non si può sottovalutare? Il problema politico è enorme, perché il governo non ha una posizione, non ha una linea. Credo che Conte sia stato, una volta tanto che un politico è onesto, lo dico a Sarina, capisco l'obiezione, però Conte è andato a Taranto a sentire un po' gli umori, anche con la sua stessa presenza a cercare di tranquillizzare. Però ha detto anche una cosa di verità, non ha una linea, non ha una soluzione in tasca. Una volta tanto che un primo ministro dice una cosa vera, insomma io non mi sentirai di criticarlo per questo. Il problema è che la maggioranza nel suo complesso è una maggioranza eterogenea, che su questo punto non ha una posizione. E non ha una posizione perché c'è un partito, secondo me, c'è un partito di questa maggioranza, che è il Movimento 5 Stelle, che non ha una posizione, come posso dire, credibile, normale, costruttiva. Perché io capisco tutte le argomentazioni, naturalmente qui il professor Crepe ha detto delle verità che sono incontrovertibili. Tuttavia il progetto era proprio quello di risolvere i problemi che ci diceva il professor Crepe. Era un progetto, era, ormai ne parliamo già al passato, un progetto clamoroso di tantissimi soldi per fare dell'ex Silva un'azienda che non producesse i drammi che ha prodotto in questi anni. E che sono il frutto di un capitalismo straccione che è quello italiano. Perché diciamoci la verità, tutta la colpa è di questi capitalisti, all'epoca erano in Riva, che hanno creato un cimitero a Taranto. Allora il nuovo investimento di Arcelor Mittal era atteso a fare in modo di far funzionare l'Ilva, perché questo è necessario alla città e al paese, senza causare dei drammi sociali, dei drammi umani. Era un investimento clamoroso. Ora 5 Stelle sta facendo di tutto per creare delle difficoltà a questo investimento. Perché la questione dello scudo penale sarà anche una questione, diciamo, presa a pretesto da Arcelor Mittal. Però è una questione. Allora rimetti lo scudo penale. Si affrontino le tematiche che pone questo imprenditore e lo si costringe a rispettare le regole. Però Di Maio oggi in una lunga intervista televisiva dice una cosa in più. Dice noi abbiamo già proposto lo scudo penale a Mittal, che però ha confermato i 5.000 esuberi, nonostante un contratto firmato solo un anno fa e che ovviamente non prevede questa soluzione. Ma questo fa parte della trattativa e Di Maio in una trattativa non la sa fare. Perché è chiaro che un ministro che un anno fa ha detto che l'ILVA l'aveva risolta. Di Maio ha detto che l'ILVA era risolta. Era una questione risolta. Oggi però lui dice che era risolta, ma questi signori non hanno rispettato il contratto. Non era risolta manco per niente, non è vero che stiamo come stiamo. Quindi Di Maio non è uno credibile per questa cosa qui. Io sono contento che Di Maio non farà mai parte di nessun tavolo di trattativa con l'ILVA, perché è un uomo che non è capace neanche di dirigere il suo partito. Figuriamoci di fare una trattativa. Di Maio.